E il Rossi c'è che comunque è emozionato. Ti ricordi quando è stata la prima volta che l'hai detto? Secondo me poteva essere il 2004-2005 ed era una specie di rivincita di Rossi che aveva fatto tipo tre o quattro quarti posti di fila che sembravano un disastro, una chiavica all'epoca perché era il periodo in cui vinceva tutto. Quindi Rossi è finito, Rossi non c'è più, sai titoli no? Grande crisi di Valentino, quarto, grande crisi di Valentino Rossi, la fine di un mito, vince, mi sembra al Mugello, ora dovrei andare a riguardare lui. Sì vabbè comunque però io ho detto ma allora lo vedete che Rossi c'è, Rossi c'è, Rossi c'è e lì Rossi c'è, è diventato Rossi c'è, poi qualcuno ha cominciato a dire ma lo usi per Rossi e non lo usi per gli altri allora è diventato nome del vincitore c'è. Però in realtà nasce per Valentino come una sorta di sigillo di una ripresa, di una sua ripresa, un suo tornare ad essere vincente.